ok finalmente si parte ecco adesso il pizzo centrale sempre a piatto ma è riuscita e ve l'aggiusto dai quali in cima bambino in cima il pizzo centrale 3 mila il pizzo centrale San Gottardo in centro il pizzo per il Tallina il rasodino con il suo ghiacciare in fondo la catena alpina la monte rosa fino alla riusciame lina al centro e sopra il pizzo torino ma sulle est forza il pizzo torino non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.